Non sono ben accetti militari che arrivano al poligono di Monte Stabbiata a Colle Brincioni da fuori regione, ma soltanto quelli del nono reggimento alpini dell'Aquila. Questa sembra essere la linea, un argomento che sta infiammando anche i social nelle ultime ore, tant'è che ci ha convocato una conferenza stampa il consigliere comunale della lista benvenuto presente, Daniele D'Angelo. Parliamo del poligono militare di Monte Stabbiata. Gli abitanti di Colle Brincioni, come è noto, hanno deciso di riunirsi in un comitato per chiedere la chiusura totale del poligono. Le esercitazioni portano secondo loro un inquinamento di ogni tipo e ripercussioni anche economiche. Per esempio i cacciatori che prima si fermavano in paese sono spariti secondo il comitato. È un'area di 22 ettari, ci sono spari dalla mattina alla sera, gli animali selvatici scappano, hanno detto. I militari arrivano da fuori regione con l'autobus, fanno addestramento e vanno via. E questo, secondo i residenti, non è compatibile con uno sviluppo non solo economico ma anche turistico, visto che arrivano molte persone da fuori regione anche per fare trekking. Nei giorni scorsi una delegazione del comitato di residenti di Colle Brincioni ha incontrato anche i vertici del parco, il presidente Tommaso Navarra, il direttore Alfonso Calzolaio e la botanica Daniela Tinti. Dal tavolo i cittadini hanno ottenuto una seconda verifica del terreno nel mese di settembre che verrà effettuata su 22 ettari e non su 6, come è accaduto in precedenza. Il consigliere Daniele D'Angelo ha specificato che lui non è per la chiusura totale del poligono ma bisogna intervenire in maniera dura contro i militari delle caserme di tutta Italia, secondo lui, in particolare di Ascoli, Caserta e Roma, fatta eccezione per il nono Alpini dell'Aquila che è una realtà storica e fonte di reddito per la città. Il comitato ha adottato una linea abbastanza intransigente invece che punta sulla chiusura totale dell'area. Io sto cercando di fare da mediatore, ha detto Daniele D'Angelo, ma la situazione è davvero insostenibile. La soluzione, secondo D'Angelo, è quella che il poligono diventa l'utilizzo esclusivo dei militari aquilani, fiore all'occhiello della città, che hanno mostrato sempre attenzione e amore verso il territorio. Quando trovano oggetti abbandonati li portano via. In un'occasione, ha ricordato Daniele D'Angelo, hanno trovato anche delle lavatrici gettate nelle scarpate e hanno ripulito l'intera area. Con il comandante del nono, tra l'altro, ha ricordato anche D'Angelo, il colonnello Marco Iovinelli, si sono stabilite delle ulteriori regole da rispettare per il quieto vivere. Il divieto di transito in paese dei mezzi cingolati, rumorosi e pesanti durante le ore notturne, per cui si sono impegnati a fare strade alternative. Nelle ore diurne, invece, potranno passare all'interno del centro abitato con mezzi più piccoli, ma a passo d'uomo. In questo caso, è previsto che un militare scenda dal mezzo per il passo ai veicoli. Infine, non porteranno più militari armati tra le case, cosa che è successa a varie occasioni per l'esercitazione di guerriglia. Alla base dello scontro con i residenti ci sarebbero anche i danni provocati dai grandi veicoli militari alle strade, ma l'esercito aquilano ha preso un impegno preciso con la popolazione per reperire fondi e sistemare eventuali danneggiamenti. Certo è che dopo la chiusura della caserma del 33esimo reggimento, provocare problemi a Nonoalpini, che rappresenta davvero un fiore all'occhiello per questa città, sarebbe veramente da matti, sia in termini di lustro alla città, sia in termini di aiuto, ma anche di economie.